Salerno. Il consigliere regionale e presidente della IV Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone, ha annunciato nuovi collegamenti da e per l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi con il resto della regione. In vista del decollo dei primi voli afferma Cascone, in questi mesi abbiamo lavorato con tutti gli enti territoriali di riferimento provincia e comune di Salerno. Comuni di Battipaglia, Bellizzi e Ponte Cagnano gli operatori del settore Egesac per garantire i collegamenti da e per l'aeroporto, partendo dal piano voli e in funzione dell'attuale stato dei servizi minimi e autorizzati. Sono state definite le prime autorizzazioni per i primi collegamenti via autobus da e per la costiera cilentana, Pompei, Battipaglia e per i grandi nodi intermodali Napoli, Salerno e Afragola. Saranno garantite navette dirette che metteranno in connessione, in maniera veloce via autostrada, l'aeroporto e la stazione di Salerno, da dove i turisti potranno poi facilmente proseguire con i propri itinerari utilizzando le vie del mare e i collegamenti su ferro e gomma. Presto saranno integrati servizi per le costiere Sorrentina e Amalfitana e le stazioni di Battipaglia e Deboli. Grazie alla collaborazione di tutti è stato inoltre siglato un protocollo per garantire un servizio taxi autorizzato che sarà identificabile attraverso un adesivo, a garanzia degli operatori e dei turisti.